Sono Tortore Andrea, CEO di Bioridis. Bioridis è una società biotecnologica che nasce a Bologna nel 2016 e sviluppa innovativi sistemi per l'analisi degli acidi nucleici che sono basati sull'utilizzo di molecole modificate che permettono di conoscere in maniera più efficiente gli acidi nucleici. In particolare abbiamo sviluppato un sistema per l'analisi dei microRNA, le V-Power Marker, che permette una quantificazione e una detection dei microRNA su fasi solide. L'affiliazione a Toscana Life Science ci ha permesso di poter accedere a un network di altre aziende competenze, sempre nel settore Life Science, anche per collaborazioni e anche di poter utilizzare le loro piattaforme tecnologiche. Al prossimo episodio